Ciao amici da Frank Bianconero, è dura, è difficile, sono i momenti più difficili anche per chi come me, un tifosotto, diciamo, un tifoso da divano cerca di comprendere qualcosa, ma è veramente difficile, è una situazione tragica, stiamo parlando di calcio ovviamente, perciò calcisticamente parlando, ma allo stesso tempo è difficilissima perché nessuno al momento si sta prendendo delle responsabilità di quello che stiamo vedendo, ieri è stata un'altra partita durata, 18 minuti, perciò si fa fatica ovviamente contro una squadra organizzata, con qualità, che sa uscire a palla al piede, ed è ancora più assordante il silenzio della società, magari poi stanno pensando di fare qualcosa subito o la prossima settimana, questo poi si vedrà cammin facendo. Detto ciò è dura, prima intanto io parlo sempre da estimatore di Allegri e da tifoso sempliciotto quale sono, perché tutti ormai, ho visto che tutti alla velocità della luce sono passati dall'Allegri Out, però non è bello rinfacciare, io credo che sia sempre troppo facile stare sulla macchina più veloce, ovviamente poi quando ti ritrovi ad avere un'utilitaria si fa più fatica a dire io ho voluto Allegri, io sono uno di quelli che voleva Allegri per il suo ritorno, sta avendo tante difficoltà, perché è semplice capire che lui nella gestione, nelle grandi squadre che ha avuto, sia nel Milan che nella Juve, nulla da dire, ma era proprio questo quello che mi aspettavo, che avesse l'opportunità di ricostruire, di vederlo anche in queste vesti, è cosa che ad oggi, perché ad oggi ancora il mio allenatore, sia chiaro come il mio allenatore sarebbe in caso De Zerbi, sarebbe in caso Tuchel, sarebbe in caso Mancini, sarebbe in caso Zidane, sarebbe in caso qualsiasi allenatore che si sederà, sarà il mio allenatore. Mi fa un po' ribrezzo quelli che hanno fatto subito la curva gomita ad andarsene subito dall'Allegri, perché io apprezzo sempre le dinamiche, apprezzo sempre le discussioni, le opinioni, questo lo dirò sempre. Scaricare una persona che tutti volevano, tutti, tantissimi volevano, dispiace, però lui è in confusione, è innegabile che è in confusione, perché io voglio sapere di ieri, perché non parlo della partita, perché è stata abbastanza evidente, voglio sapere soltanto la sostituzione di Milichieri. L'unica luce in mezzo al campo, l'unica luce che abbiamo avuto, l'unico gol di un certo livello, l'unico che si faceva vedere tra le linee, l'unico che cercava di dare problemi, perché anche l'altro tiro nello specchio, quello deviato, è stato fatto da lui nel secondo tempo. Una squadra povera di carattere, una squadra povera di energie, perché anche l'aspetto fisico, per me viene da ridere quando si parla di aspetto mentale. Premesso che la testa può far tanto, e questo ovviamente lo dicono chi ha studiato, perché da ieri sembra avere troppa, questa parola mentale sembra avere troppa, nel calcio sembra avere troppa disponibilità della gente, basta che diciamo, non è secondo me pura mentale. Intanto gli allenatori come un staff atletico li alleno come andare in guerra, do un principio di gioco, faccio vedere cosa mi piace vedere in campo, dei movimenti senza palla, avere intensità, il pressing alto ma che duri magari almeno 80 minuti, e poi vedete che l'aspetto mentale viene da sé, perché la gente si diverte. Pensare sempre che questi qua, insieme all'allenatore, perciò può darsi pure la proprietà e la società, hanno in questo momento calcisticamente parlando qualche problema mentale, ma detto ciò, se un giocatore o qualsiasi persona non si diverte, non è l'aspetto mentale, si sta semplicemente scazzando, perché basta usare questa parola ogni tre frasi, è un problema mentale. Mentale di cosa stiamo parlando? Mentale di che cosa? Che non riescono a rincorrere un giocatore con la palla e loro dietro sembra che hanno due frigoriferi attaccati alla schiena. Di chi è la colpa? Di che è la colpa di una squadra che sta su 70 metri, l'80% della partita? Perciò Allegri, che magari resta, si deve dare una svegliata, basta queste porcate, io dico porcate di intervista a fine partita, perché puoi dire semplicemente abbiamo fatto cagare, punto, senza dire la prima volta che la Juve, da quando esiste la Coppa dei Campioni, che viene sconfitta due volte consecutive, e poi la risposta c'è sempre la prima volta per tutto, questo non va assolutamente bene. Come per me in pubblico le parole, che ho in tutto il rispetto che ho per quella partita di ieri di Bonucci, per come si vede che ci tenono la Juve, poi è un altro discorso cosa penso del giocatore, parlo dell'uomo Bonucci. Dire anche in pubblico, sono molto preoccupato perché non sappiamo se è una questione fisica o mentale, lui le ha messe tutte e due, ma in pubblico è meglio che non lo dici, perché se no tanti cavalcano quello che si dice pubblicamente, come c'è stata la frase che io non avrei mai detto quella di arriva bene, però c'è un discorso semplice da fare, semplice per me, non per gli illustri che hanno scienza. La Juve è nettamente in difficoltà, è nettamente in difficoltà da tutti i punti di vista, atletici, fisici, mettiamoci in mentale, di infortuni, di recupero dagli infortuni, di gestione dagli infortuni, cambiare schema durante la partita di quattro, quattro volte si cambia schema, come vuoi giocare, come non vuoi giocare. Poi, come dicevo ieri, c'ha otto collaboratori, non strunz che diceva, che cacchio togli Milik, cioè che non serviva proprio a niente in quel momento, le dovevi lasciare tutti dentro, magari mettere McKenny, Ken in più, se vedevi che fagioli non ce la faceva più. Però detto questo, abbandonare, l'abbandonare la nave è troppo facile, io poi sono un boomer del tifo, perciò non sto a fare retorica, perché è troppo facile, sempre quando si vince. Come vorrei sapere chi in questo momento, perché la stagione siamo a settembre, sta avendo ragione, che non voleva Allegri, perché gode, perché non voleva Allegri e ha ragione della sua idea. A me fa piacere questa cosa, nel senso io ti do ragione, complimenti, però non vingiamo un cazzo, però magari, ovviamente c'è sempre qualcuno che vince, rispetto alle visualizzazioni, no? Perché se cominci ad inveire è normale che poi qualcuno ti guarda. Ma essere schiavo della propria idea, e poi magari dopo cento cose che dici, una te ne va bene, gli si danno in merito a tutti, perché sono tanti che non volevano Allegri. Si sta rivelando, per alcuni, capaci di dire le cose come stanno, quello che si sta vedendo ora, perciò in capacità di creare un gruppo, creare una squadra, creare una mentalità, creare giuventinità, creare pericolo in campo, essere pericolosi in campo, avere idea di gioco, avere una proposizione di gioco decente, non dico fiammante, ma almeno decente, ma questa non la vediamo, perciò Allegri, come nessun allenatore, non dirò Allegri Out, perché sono deciso della società, ma Allegri sta facendo una pessima figura, da allenatore e da comunicatore, e da comunicatore è ancora peggio, perché quando dici determinate cose anche con sorriso sarcastico è un problema, perché se fai figure, se vediamo queste partite, ricordiamo otto partite, soltanto due vittorie, due sconfitte, e quattro pareggi, perché lo dobbiamo ricordare, anche il trend che sta avendo Allegri, fare questi mezzi sorrisini sembra che prendi per il culo, perciò non va assolutamente bene, se giochi male, lo devi dire, se non hai idea di come giocare a calcio, se ti senti la soluzione del problema, lo devi risolvere, ma non dopo otto partite, o dopo un anno e tre mesi, scusate, perché non è otto partite, se dici che c'è la soluzione, soluzioni non se ne vedono, se Quadrato non può stare in campo, non lo metti in campo, perché li vedi tu i giocatori, se Meccanio non ha scappato di casa, lo devi vedere tu, ti inventi qualcosa, metti altri due giovani, la nessuno ti può dire nulla, perché giustifichi il fatto che c'è gente che non merita di stare in campo, vedere Vlauvi Cieri è stato imbarazzante, il giocatore è forte, ma fa delle cose da campionato di terza categoria, soprattutto nel controllare palla, poi non viene servito, questo lo si vede ad occhio nudo, non ci vogliono i professori, ma quando viene incontro alla palla, non fa mai salire una volta la squadra, poteva mandare due volte a rete nel primo tempo i compagni, e ha sbagliato sempre scelta e controllo palla, perciò ci sono problemi a tutte le latitudini, dove tecnicamente do sempre l'80-70% di colpa all'allenatore, ma che noi non teniamo 60 minuti, 70-80, è una cosa ridicola, il giocatore ieri è venuto un sorriso, un giocatore da Benfica è andato da McKennie, pensando che stava piangendo dopo la partita, perché aveva le mani sulle ginocchia e la testa chinata, quello no, perché non ce la faceva più a fine partita, le altre squadre possono sempre che possono fare altre due partite in maniera interrotta, perciò la Juve deve, se prende una decisione la devi fare per il bene della Juve, non per traghettare, non per mettere una toppa che spesso è peggio del buco, perciò devi cacciare tutti, a partire, Allegri se non vuole ascoltare ragione, perché la Juve fra poco cambierà un bel po' di uomini tra staff atletico e tecnico e anche di fisioterapisti, se non è d'accordo può andare anche lui col suo staff, mentre se è d'accordo accetti il cambiamento che la società vorrà portare, io non mi vergogno mai di essere della Juve, non mi vergogno mai di avere un periodo negativo, i tifosi è giusto che fiscano a fine partita, ci sta che possono fischiare, c'è poco entusiasmo e i tifosi raccontano cosa succede allo stadio, i tre giocatori che sono andati via, per me parete se è stato insieme a Melich il migliore, me ne frega che non va sotto la curva, in campo ti dai da fare, se va sotto la curva De Scilio, Ken, McKennie, Quadrado, che non è andato nemmeno Quadrado, però per modo di dire, se vanno quei caproni sotto la curva mi interessa che quelli che stanno in campo, quando stanno in campo danno tutto, perciò sono sempre frivolezze frivolezze che non contano un gazzo per quanto mi riguarda, perché conta sempre il risultato e noi non stiamo vedendo nulla, ora la società deve fare una scelta, continuare su questo stato, ibrido, perché non sappiamo né difendere, né attaccare, non sappiamo nemmeno muoverci, non resistiamo, non abbiamo intensità, non abbiamo 90 minuti sulle gambe, crolliamo, ed è fisica la cosa ragazzi, ed è fisica, e Bonucci è stato chiaro a fine partita, non si riesce a correre, è un problema grave, perciò io credo che se deve cambiare la Juve deve cambiare in questo momento, senza aspettare troppo, oppure dopo il Monza, diciamo che in un paese dove nessuno si dimetta, sarebbe anche ora, visto che la soluzione doveva essere lui, che si può dimettere anche la natura stesso, ma noi stiamo vedendo veramente poco, non ci meritiamo questo, io non abbandonerò mai la Juve, non insulterò mai sotto i post che fa la Juve su Twitter, quello che vuole fare la società lo faccia, ma spero soltanto che lo faccia a fin di bene per noi, perché vogliamo insultare, perché vogliamo vincere, Agnelli assente, non sappiamo perché, magari poi si saprà, società silente, sicuramente, dopo la serenità erano tutti zitti, c'è poco da stare allegri, questo è il caso di dirlo, però ripeto che la facilità per cui si fanno le curve a gommi, tornate forse alla Juventina, sono troppe, e bisogna analizzare sempre tutto, e io dico sempre, se si vede il dito e mai la luna, non abbiamo fatto nulla, i primi responsabili è la proprietà, poi il tecnico e poi i giocatori, ma non eliminiamo del tutto sempre i giocatori, dalle loro responsabilità, e da quello che ci mostrano in campo, perché ripeto, c'è anche un tuo nome dietro la schiena, c'è un tuo stemma davanti alla maglia, vai tu in campo, e devi essere, almeno avere un po' di orgoglio, un po' di amor proprio, perché il tuo nome è dietro la schiena, e ieri hai fatto una figura di merda, col tuo nome che avevi dietro la schiena, oltre a quello della squadra, perciò detto questo, speriamo che arrivano soluzioni, veloci, urgenti, ma ragionate, per migliorare l'aiuto, non a top, perché se no restiamo così come siamo, che è meglio, ciao a tutti, da Frank Bianconero, iscrivetevi al canale, ciao,